Va bene, direi che possiamo anche andare più o meno, poi qualsiasi faccia perplessa, vostra o nostra, sono fatte nella stessa serata. Se volete avere delle pubblicità, volete fare delle domande, delle cose... Ma queste sono le versioni del disco, quelle che suoniamo? Secondo te? No, queste sono delle improbabili versioni acustiche, improvvisate anche. Improvvisate no, abbiamo fatto un paio d'ore di prove, ma qui non mi ricordo, non è merito. Quindi se, non so, anziché parlare di Maximilio, di come nasce le canzoni, se c'è qualcuno che ha notato una cosa, vuole chiedere, lo può fare adesso, altrimenti taccia. Facciamo noi delle domande a te. Dimmi, dimmi. Dovete marcheggiare?